... Antonio Volantorio, Presidente della Torre, 70 gente questa mattina alle 10 e mezza, ma dove si muove lei c'è gente? Ma la cosa che sono contento è che le persone iniziano a credere nei progetti che io già qualche anno fa ho iniziato a prospettare. Sono contento che le persone stanno per seguire la scia, stanno per seguire quello che è il mio sogno, avere a Torre del Greco un campo importantissimo per una squadra importantissima e creare anche quelli che sono poi i presupposti per una zona industriale, quindi per posti di lavoro. Un progetto importante, un progetto pieno di ambizioni, ma d'altronde con lei non ci si poteva aspettare cosa diversa. Ti ringrazio, è chiaro che io sono per le cose difficili, anche quest'opera che ho prospettato, che tra poco poi la presenterò pure, apprenderà anche forma. È una cosa ambiziosa, ma chiaramente sono le cose difficili che bisogna fare, le cose facili le lasciamo fare agli altri. Ecco, Romina Stilo, un nome di Dione per parte del centro-destra, lei come la vede? Romina è una persona molto in gamba. Quando io ho creato questo progetto e mi hanno fatto conoscere Romina, mi sono subito convinto che la professionalità, la capacità di fare squadra, la capacità di questa donna possono essere importantissime per il futuro orgoglioso della nostra città. La curiosità, in futuro Antonio Colantonio si vedrebbe bene come sindaco oltre al presidente della TUR? No, adesso il sindaco è Romina Stilo e noi dobbiamo tutti seguire la nostra candidata. Di queste cose sicuramente non ne voglio parlare. Grazie a te.